Siamo venuti qua poco convinti, pensavamo di fare una buona partita dato il risultato della scorsa partita con il chiuduno probabilmente abbiamo sottovalutato l'avversaria perché tutti gli errori sono stati commessi da noi e anzi dobbiamo fare i complimenti agli avversari che non hanno mollato neanche un secondo sulla partita ci hanno prestato all'inizio, non ci hanno fatto impostare le azioni l'unico gol infatti è arrivato su palla ferma è una sconfitta amara perché pensavamo di confermare la prestazione da tre punti ma niente, siamo tornati a casa con niente Grazie Andrea, ci vediamo prossimamente sui campi Juniors Grazie mille, ciao a tutti Ed ora siamo con i giocatori del Cornaredo, qua con noi Kevin mentre vediamo la sua doppietta che ha portato la sua squadra alla vittoria chiediamoli un commento Abbiamo giocato male, siamo riusciti lo stesso a vincere la prossima partita giocheremo a Raw speriamo di giocare meglio e di vincere lo stesso sono felice per la doppietta e speriamo di vincere continuamente Ok, grazie Kevin, ci vediamo prossimamente Ciao, grazie